Blitz congiunto di Polizia Municipale, Guardia Costiera e Agropoli Cilento Servizi questa mattina sulle spiagge cittadine di Agropoli. L'operazione ha portato al sequestro di 100 ombrelloni e 60 tra Sdraio e Lettini. Una conferma del pugno duro adottato nei confronti di chi ha la cattiva abitudine di lasciare gli ombrelloni piantati oltre il tramonto per prenotarsi un posto al sole per l'indomani. Una pratica vietata sottolinea il sindaco Adamo Coppola e questa mattina abbiamo voluto ribadirlo. Grazie a tutti.